In Veneto c'è il problema più grande per la presenza decennale degli stabilimenti dell'Amiteni, ma la penetrazione dei veleni denominati PFAS nelle acque potabili, riguarda altre regioni. Al di là del rimpallo di responsabilità, il governatore Luca Zai accusa il governo, c'è un punto sanitario inequivocabile e non rassicurante. Nel sangue di ragazzi e ragazze di 14 anni sono state riscontrate tracce di sostanze per fluoro alchiliche, PFAS, tutt'altro che trascurabili. Da 70 fino a 300 nanogrammi per grammo. Si consideri che 2 o 3 nanogrammi ce l'abbiamo tutti, tuttavia non è stata ancora definita una soglia di pericolo.